musica 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 ci sono delle cose che con la grazia non vengono fuori qua si vedono come uno suona in un certo modo come ha imparato a suonare il suono che c'è sullo strumento perchè qua sopra questo amplificato che sono su una batteria ha un altro suono ed è un suono secondo me con abbastanza groove musica 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 ecco quello che vi consiglio qua si suda molto e non si da fastidio a casa con una batteria che suona così e non serve a niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.